Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono anche attiva su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ciao a tutti. Fortunatamente riporta la memoria a questo caso e crea un'inchiesta che, finalmente, porta gli inquirenti a indagare seriamente. Nella redazione di Chi l'ha visto giunge una telefonata nel settembre del 2020. La persona dall'altro capo del telefono segnala alla redazione il caso di una ragazza ormai scomparsa da anni di nome Agatha Scuto, che, secondo lui, in realtà non sarebbe mai uscita da casa sua. Cercate in cantina, dice. L'inviato di Chi l'ha visto va quindi ad Acireale, in provincia di Catania, nella casa in cui Agatha viveva con i suoi due fratelli, e chiede a Mariella, sua madre, di controllare la cantina. La signora mostra la cantina senza problemi e pare che non ci sia nulla fuori posto, ma ecco che emerge che Agatha percepisce una pensione di invalidità e, per tutto questo tempo, l'ha incassata la sua famiglia. Mariella è separata e ha quattro figli. Giussi, Gianluca, Agatha e Christian. La donna ripete che sua figlia è scappata di casa volontariamente e che hanno parlato al telefono subito dopo la sua scomparsa. In quella occasione la ragazza le avrebbe detto di essere con un ragazzo e di non voler tornare più a casa. Stupisce inoltre che dalla camera di Agatha non sia rimasto nulla, sembra che abbiano voluto dimenticarla in fretta. Mariella spiega che prima di scappare di casa la ragazza aveva fatto una dieta, era dimagrita parecchio, quindi se si era allontanata volontariamente e non aveva preso con sé i vestiti, era perché probabilmente non li voleva più, dato che non le andavano più bene. Ma poi la donna spiega più chiaramente che sua figlia ha lasciato proprio tutti gli indumenti, non si è neanche preoccupata di preparare un piccolo zainetto per portare le cose essenziali, come l'intimo. Ha lasciato tutto a casa, a parte i vestiti che aveva addosso. E se Agatha non ha portato con sé niente, probabilmente non si è allontanata volontariamente. Ma chi è davvero Agatha? Prima di tutto è una ragazza fragile e prima della scomparsa, da minorenne, trascorre la maggior parte del tempo in un istituto dove frequenta il liceo artistico. Poi, finite gli studi, torna a stare definitivamente a casa dalla madre. Da qui Agatha esce poco, è sempre accompagnata e il tempo degli amori e delle prime cotte per lei è molto complicato. Gli unici uomini che vede ogni giorno sono i suoi fratelli e Rosario, il compagno di sua madre. Rosario, detto Saro, si vanta di essere un ex carabiniere. Vuole convincere la gente che non farebbe mai del male a nessuno, specialmente ad Agatha. Ma l'uomo non è affatto un ex carabiniere. Questa è una balla che racconta a tutti, anche a Mariella. E quest'ultima ci ha creduto per parecchio tempo. Rosario in realtà vive raccogliendo lumache di terra, origano e frutta selvatica che poi vende per strada. Ma allora, cos'è accaduto il 4 giugno del 2012, giorno in cui Agatha è sparita? Mariella racconta di essere uscita di casa per andare a far visita a sua madre. Proprio perché Agatha l'aveva spronata a farlo, dicendole che lei sarebbe stata bene a casa da sola. Anzi, aveva proprio voglia di starsene per conto suo per qualche ora. Dunque, lei e il figlio Christian escono alle 10.30 del mattino. Quella mattina, una vicina vede una macchina. Le sembra che sia la vettura del convivente di Mariella, ossia Rosario, chiamato da tutti Saro. Dunque, Rosario era lì quella mattina? Aspettava Agatha? Stando al ciò che dice Rosario, no. O meglio, quella mattina aveva dormito a casa di Mariella, dove peraltro non passava tutte le notti, ma si era svegliato alle 4.30 per andare a prendere le lumache in campagna ed era tornato da Cireale solo la sera. La vicina, però, sostiene di aver visto la sua macchina verso le 8.30 del mattino. Quindi, Rosario stava in due posti contemporaneamente? Onestamente, dubito avesse il dono dell'ubiquità. Quando rientra Rosario, però, Mariella si accorge che ha una ferita piuttosto importante sul piede ed era tutto graffiato sulle gambe. Quando Rosario fa vedere la cicatriccia alle telecamere di chi l'ha visto, si nota che non è proprio sul piede, bensì sulla parte finale della gamba. E si vede un segno di forma circolare. Questo quindi significa che si era bucato con qualcosa. Spiega che un ferro, in effetti, gli era entrato nella gamba e quella ferita era anche alquanto importante. Ma lui non era andato in ospedale perché aveva paura. Si era curato da solo, a casa, disinfettandosi spesso la ferita. Attorno a quella ferita spicca una bruciatura guarita. In quella zona della gamba non ci sono peli. Ma sembra che, almeno all'inizio, nessuno noti questo particolare. Questa è sicuramente una storia delicata. Agatha, con la sua piccola pensione di invalidità, sembra il bancomat della famiglia, che purtroppo non è messa bene a livello economico. Tutti le chiedono soldi e lei glieli dà. Non può fare altrimenti. Una domanda a questo punto nasce spontanea. Il problema è solo economico? Mariella, a questo punto, spiega un altro fatto molto importante. Agatha teneva una specie di diario in cui segnava il giorno in cui le veniva il ciclo. Un giorno, poco prima di sparire, Agatha era andata da sua madre e le aveva detto che il ciclo non le arrivava da due mesi. Sua madre, chiaramente, si era allarmata ed era andata a confidarsi con Rosario, il suo compagno, il quale non aveva reagito benissimo. Il suo viso si era come irrigidito, contorcendosi in una smorfia. Forse di preoccupazione? Forse di rabbia? Di rabbia, Rosario non aveva motivo di provarne. Lo sottolinea anche lui, perché Agatha non era davvero sua figlia. A questo punto, l'inviato di chi l'ha visto, chiede a Rosario se, per caso, avesse avuto qualche rapporto intimo con Agatha. Ma l'uomo risponde con una faccia sorpresa. Stai scherzando? Lo ripete qualche volta, poi accenna un sorriso e continua dicendo Io mi posso mettere con una ragazza malata che puzza. E poi Mariella, sua madre, era una bella donna. Mariella, d'altro canto, ha il dubbio che Agatha fosse realmente incinta. C'erano delle cose che non le tornavano. Ad esempio, di notte, capitava che si svegliasse e si rendesse conto che Rosario non era nel letto accanto a lei. Poi sentiva bisbigliare in corridoio. Mariella è certa che fossero Rosario e Agatha. Ormai, Rosario e Mariella non stanno più insieme. E quest'ultima lo descrive come un uomo violento. Alzava le mani, la picchiava, la strattonava. Ha provato a strangolarla. Le ha puntato un coltello da cucina alla pancia. Chiaramente questo non è un quadro familiare felice e sereno. Quindi viene anche da pensare, beh, se Agatha è scappata, davvero, come darle torto? Il fratello di Agatha, Christian, denuncia subito la scomparsa della ragazza. Ma, come già vi ho detto all'inizio, nei giorni successivi, la stessa Agatha telefona sua madre dicendo di essere scappata con un ragazzo. O almeno è ciò che sostiene Mariella. Ma chi è questo ragazzo? Agatha stava davvero con un ragazzo? Se ci fosse stato un ragazzo, nessuno ne era conoscenza. Successivamente, però, la denuncia che vi ho menzionato prima viene ritirata. Perché? Rosario sostiene di aver visto Agatha per strada da Cireale e rassicura Mariella dicendole che non ha motivo di preoccuparsi. La ragazza è viva e vegeta, semplicemente non vuole tornare a casa. Quindi non è meglio andare a ritirare la denuncia? C'è un problema, però. L'unico ad aver visto Agatha dopo il 4 giugno 2012 è stato Rosario. Nessun altro. Rosario vede Agatha, a quanto dice, in due occasioni. E la seconda volta le dice di tornare a casa perché è sua mamma, la cerca e sta piangendo. A quanto dice l'uomo, Agatha gli avrebbe risposto Non mi rompere la minchia perché vado dai carabinieri. Nasce però un altro dubbio perché Agatha è invalida. Ha un handicap, all'epoca aveva 22 anni all'anagrafe, ma la sua età mentale corrispondeva a quella di una bambina di 10-12 anni. Una ragazza in queste condizioni può effettivamente organizzare una fuga? Risulta un pochino complicato, secondo me. Inoltre, a quanto pare, Agatha era gelosa della relazione tra sua madre e Rosario. E lo dimostrava con tanti piccoli gesti. Se lo vedeva abbracciare sua mamma, correva in camera e sbatteva la porta, ad esempio. L'ennesima domanda che nasce spontanea è Perché Agatha era gelosa di sua madre e della sua relazione? Mariella spiega che quando viveva ancora con Rosario, prima di andare a letto, andava in bagno a sistemarsi e, quando usciva dal bagno, trovava sempre Agatha con Rosario nella camera da letto. Alla richiesta di spiegazioni di Mariella, Agatha ribatte che per lei Rosario è come un papà, gli vuole bene. Ecco perché gli sta molto vicino. Infatti voleva sempre uscire con lui anche per andare a far la spesa. Agatha chiaramente non ha molta vita sociale, quindi di solito accompagna la mamma a fare la spesa. Ma nell'ultimo periodo, prima di scomparire, stranamente insiste per andarla a fare solo con Rosario. Ogni volta che Rosario deve sbrigare qualche commissione, Agatha vuole andare con lui. E come vi ho già detto, era Agatha a dare dei soldi ai membri della famiglia, se ne avevano bisogno. Quanto pare Agatha dava volentieri i soldi a Rosario per fare benzina, ma, ad esempio, non li voleva dare a suo fratello Christian. Insomma, era molto legata all'uomo. Bisogna però capire in che senso Agatha era legata a Rosario, perché il dubbio è che tra i due ci fossero dei rapporti. La situazione si fa sempre più complessa, fino a quando, come vi dicevo, mamma Mariella sfoglia il diario di Agatha, dove segnava quando le arrivava il ciclo. Ebbene, Agatha aveva scritto mamma cornuta su un foglio di quel diario. Ci sono fin troppe coincidenze, a mio avviso. Agatha si era innamorata del compagno di sua madre. Nonostante lui in quella casa avesse la residenza, Mariella dice che Rosario e Agatha non rimanevano mai da soli. Una volta però, rincasando, Mariella trova Rosario davanti a casa, vicino alla sua auto, e Agatha è sull'uscio. Appena Rosario vede Mariella, le dice che stava aspettando proprio lei e che non sarebbe mai entrato in casa da solo. Quel giorno, in assenza di Mariella, l'uomo ha dunque parcheggiato la sua auto davanti alla casa della sua compagna, che, quando arriva, lo trova a parlare con Agatha, che è uscita sulla soglia. Una scena simile a quella descritta dalla vicina, che racconta di aver visto la macchina di Rosario lì davanti, e Agatha in pigiama davanti alla porta il giorno della scomparsa della ragazza. È possibile che Agatha quel giorno sia andata via con Saro? L'uomo nega ogni accusa e continua a insistere. La ragazza è scappata con un ragazzo misterioso, dice. Gianluca, uno dei fratelli di Agatha, sottolinea però che la ragazza non usciva mai da sola di casa. Quindi, se qualcuno l'ha portata via, deve essere stato un uomo adulto, in quanto Agatha è invalida. Ha un braccio e una gamba offesi e, mentalmente, nonostante avesse 22 anni, si comportava come una bambina di circa 10 anni. Anche perché, dice Gianluca a suo fratello, se fosse fuggito con un ragazzo non troppo grande, probabilmente la famiglia del ragazzo li avrebbe chiamati per avvisarli. E soprattutto Agatha aveva una pensione per la sua invalidità. E sembra assurdo che non abbia mai ritirato i suoi soldi, soldi che le aspettavano. Non era di certo una cifra esagerata, Agatha percepiva circa 280 euro al mese, ma di certo quei soldi le sarebbero stati utili in vista della sua fuga. Passa circa un mese e l'inviato di chi l'ha visto porta ovviamente avanti l'inchiesta. Ma ecco che viene minacciato da un perfetto sconosciuto, amico di Rosario. L'uomo gli sta addosso, lo spinge e gli dice queste parole. Te ne devi andare. Io ti do tre minuti di tempo. Non te lo dico più. Te ne devi andare ora. Sparisci. Non parlare più. Ti arriva uno schiaffo che la testa te la stacca. Te ne devi andare ora. Non parlare più. Hai capito o no? Ti meno. Il tempo che ti dico che ti meno, ti ho già menato. Vattene e non andare sotto casa di Rosario. Non devi nemmeno andare sotto casa sua. Devi scomparire. Hai capito? E non andare sotto casa sua. Se ti vedo sotto casa sua, ascolta. Io sono amante degli amici. Non te lo dico più. Se io esplodo, vi porto a tutti e tre, prendo la corda, vi porto su in montagna e poi glielo dico io che sono stato io ad ammazzarvi. Tu a me. Non mi conosci. Se l'intenzione era quella di fermare l'inchiesta di chi l'ha visto, hanno fallito clamorosamente. Anzi, aggiungerei che se minacci qualcuno, è sottointeso che vuoi nascondere qualcosa, a mio parere. Intanto, chiaramente, partono le indagini delle forze dell'ordine e questa volta l'inviato di chi l'ha visto va a sentire la nonna di Agatha, ossia la suocera di Mariella. Pina, la nonna di Agatha, sottolinea che era una brava ragazza. Purtroppo, lei era all'oscuro di tutta la situazione, altrimenti l'avrebbe volentieri accolta a casa sua e se ne sarebbe presa cura. Era una ragazza affettuosa, racconta nonna Pina, ma tutti in famiglia continuavano a chiedere le soldi. Infatti, la ragazza percepiva dall'Inps una pensione di 280 euro al mese più 13.000 euro di arretrati. Tutti attingono i suoi soldi fino al giorno della scomparsa. Quando scompare, attenzione, smette di prelevare i soldi della sua pensione e sono i familiari a riscuoterli al posto suo. Addirittura, la nonna paterna non viene messa al corrente della situazione. Vi spiego. La nonna Pina non sapeva che Agatha fosse scomparsa. Nonostante, continuino a vedersi per le feste. Mariella le dice che Agatha è fuori con un ragazzo. Pina, però, dice che le appare strana questa situazione perché Agatha non usciva mai da sola. Pian piano, ecco che i componenti della famiglia, che erano totalmente all'oscuro della situazione, spiegano che in quella famiglia i problemi da casa non uscivano. uno di questi è Daniele, il fratello del padre naturale di Agatha. Il padre di Agatha si era allontanato molti anni prima, ormai aveva un'altra famiglia ed è venuto a conoscenza della storia proprio da chi l'ha visto. La sorella di Agatha, Giussi, era andata via di casa prima della sua scomparsa. Agatha, terminato il liceo, sostiene di voler imparare a cucinare e di voler imparare a fare la parrucchiera. Così sua sorella si offre di ospitarla per darle una mano a raggiungere questi obiettivi. Agatha sembra entusiasta di trasferirsi con sua sorella. Ma poi quando arriva la famosa pensione dall'Inps ecco che cambia idea e dice che vuole rimanere con la mamma. Mariella divorzia e quando si mette con Rosario sembra che quest'ultimo voglia fare terra bruciata intorno alla donna. Ora c'è lui e quindi il padre di Agatha, Salvatore e lo zio Daniele non devono più farsi vedere. Rosario dice a Mariella che non li deve più far venire a casa perché non fanno più parte della famiglia. Rosario in quella casa ci vuole stare solo con Mariella e Agatha. Il tempo passa e i rapporti si deteriorano. Il padre di Agatha è proprietario della casa in cui abitano Mariella e Rosario ma pur pagando il mutuo non ci può più entrare. La sorella di Agatha Giussi si trasferisce perché a lei Rosario non piace affatto quindi non approva le relazioni di sua madre mentre Rosario inizia a fare il padrone. Se la prende con i figli di Mariella che sono rimasti in casa Rosario dice a Mariella riferendosi ai suoi figli sono dei magnaccia e non vogliono lavorare altre volte li minaccia dicendo sempre alla donna i tuoi figli li faccio mettere nel portabagagli di una macchina e li faccio bruciare. Lo zio Daniele si dice convinto che Agatha sia stata uccisa perché se avesse fatto veramente una fuga d'amore in otto anni ci sarebbe stata qualche traccia di lei. Possibile che in otto anni non sia mai stata avvistata? Possibile che non sia mai andata da un medico è diventata un fantasma in pratica. Daniele dice anche una cosa sacrosanta ossia che lui vorrebbe stare vicino alla famiglia e cercare Agatha ma dopo otto anni come fa? Da dove comincia? Come fa a trovarla? Sono passati davvero troppi anni anche perché intanto chi l'ha visto lancia numerosi appelli ma nessuno si fa avanti nessuno ha visto Agatha nessuno parla. Emergono finalmente delle novità nel novembre del 2020 in quanto Rosario viene indagato per l'omicidio di Agatha. I carabinieri vanno a casa scuto a scavare in giardino e a fare delle ricerche in cantina proprio per essere sicuri che in quella casa non ci sia davvero nessuna traccia di Agatha. In effetti non trovano nulla. Agatha o meglio il suo corpo non è in cantina né in giardino. Qualcosa però viene trovato. Ci sono resti ossei di animali e altri frammenti ossei di natura ignota questi ultimi in corso di accertamenti da parte del personale dell'Istituto di Medicina Legale di Catania. Ma cosa è stato trovato di specifico? Oltre a quei numerosi frammenti ossei di origine animale si legge Reperto numero 5 costituito da una busta di plastica con 5 frammenti ossei di origine da verificare Reperto numero 6 costituito da busta di plastica con due sottoscarpe una suola per scarpa un oggetto cavo dalla forma cilindrica Reperto numero 7 costituito da una busta di plastica con un lembo di stoffa di colore rosso di forma rettangolare lungo 19,5 cm e largo 1,5 cm Dunque ci sono frammenti ossei di origine da verificare e poi sono stati trovati due sottoscarpe una suola e un lembo di stoffa rossa Cosa sono? Rifiuti? O si tratta di altro? Come mai Rosario viene indagato per omicidio? Ha un strano rapporto con Agatha Fa anche capire che la figlia della sua compagna potrebbe essersi innamorata di lui Mariella sospetta che la figlia potrebbe essere rimasta incinta proprio di Rosario Ma Mariella come ha preso la notizia di Rosario indagato per omicidio? I due sono stati assieme per ben 12 anni Quell'uomo in casa alla fine se l'era portato lei Mariella si dà la colpa perché sostiene di non essersi resa conto di essere stata con un uomo che non solo era violento come vi ho già accennato ma soprattutto non l'amava non amava lei non amava i suoi figli e vista la situazione sempre secondo Mariella non amava Agatha a questo punto l'Inps manda una comunicazione alla famiglia sospendendo la pensione di Agatha ma soprattutto viene sottolineato per l'ennesima volta che tracce di Agatha in quella casa non ce ne sono bisogna quindi cercarla fuori da quella casa ma dove esattamente a febbraio del 2021 emerge che gli inquirenti hanno sequestrato un pezzo di metallo che era in possesso di Rosario cioè l'ex compagno di Mariella che vi ricordo è l'unico indagato con l'accusa dell'omicidio di Agatha questo pezzo di metallo alla fine del mese di febbraio sarà analizzato ci sarà un accertamento irripetibile verrà prelevato del materiale organico perché pare che questo oggetto sia sporco di sangue e quindi verrà confrontata questa traccia con il DNA dei familiari di Agatha per capire se quel sangue potrebbe appartenere ad Agatha o allo stesso Rosario questo oggetto sporco di sangue inizialmente non si sa se sia stato consegnato da Rosario o se sia stato trovato a casa sua certo appare strano che un pezzo di metallo sporco di sangue venga conservato per ben otto anni ma questo pezzo di metallo non spunta così di colpo se ricordate lo stesso Rosario aveva sostenuto che il giorno della scomparsa di Agatha era andato a raccogliere lumache e origano molto lontano da Acireale a tre ore di macchina poi aveva detto che non era così lontano da Acireale ma una cosa non ha mai cambiato cioè il fatto che quel giorno si era fatto male ad una gamba con un pezzo di metallo un'ennesima domanda sorge spontanea questa ferita può avere a che fare con la scomparsa di Agatha il luogo in cui è andato può avere a che fare con la scomparsa di Agatha se Agatha non è a casa di Mariella e non si trova da otto anni dove è stato occultato il suo corpo arriviamo al gennaio del 2022 quando Rosario viene arrestato con un'accusa parecchio importante secondo la procura infatti l'uomo ha ucciso Agatha perché era in stato interessante e colui che l'aveva messa incinta era proprio lui ma torniamo un attimo al pezzo di metallo secondo gli inquirenti dopo aver ammesso di essersi ferito Rosario cerca di inquinare le prove e organizza una vera e propria messa in scena che ha al centro proprio un pezzo di ferro lo scrivono i carabinieri nel comunicato stampa del suo arresto al fine di inquinare le prove l'indagato durante le restrizioni nella libera circolazione dovuta alla pandemia avrebbe cercato di nascondere in una località sull'Etna un tondino di ferro intriso del suo sangue tondino che avrebbe voluto fare ritrovare il giorno del suo arresto al fine di dimostrare il suo alibi e la sua innocenza dunque Rosario teme di venire arrestato e cerca di crearsi un alibi ma gli inquirenti quel tondino di ferro che lui ha appositamente sforcato col suo sangue lo trovano prima perché intercettano le sue conversazioni e scoprono il suo piano in questo modo hanno capito che l'uomo li stava depistando oggi così come aveva già fatto nei giorni della scomparsa di Agata Rosario infatti fa credere a Mariella di aver visto la figlia in giro ad Acireale in tre occasioni distinte ma la vede solo Rosario e nessun altro secondo la ricostruzione della procura dando notizia alla madre di Agata di questi tre avvistamenti e facendole credere che la ragazza fosse andata via volontariamente e che non volesse più vederla Rosario sarebbe riuscito a convincere Mariella a ritirare la prima denuncia di scomparsa fatta ai carabinieri Agata però non può tornare perché è così dice la procura è stata uccisa ma come? dov'è il corpo? Rosario viene intercettato mentre parla da solo in macchina e parla di un corpo bruciato la procura interpreta queste frasi come una confessione la ragazza che devo far sparire mi spavento se la trovate impazzisco non ce la faccio più il RIS hanno mandato il RIS quelli del RIS dove devo metterla? che mi spavento questa disgraziata mi sta mi sta facendo cadere la faccia a terra fanno le indagini va bene nell'indagine trovano qualche cosa abbiamo trovato la ragazza morta l'abbiamo trovata la ragazza il corpo della ragazza l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata la ragazza morta l'abbiamo trovata morta nelle campagne in un casolare nelle campagne di pacchino intanto l'abbiamo trovata che è morta strangolata è morta strangolata e bruciata e qui noi altri ci facciamo l'autopsia che? ti sei bruciato? se fosse davvero così povera Agata strangolata e bruciata da un uomo di cui si fidava di cui forse si era innamorata e che si è approfittato di lei e ha deciso di prendersi la sua vita e di annullarla con il fuoco per cancellare le tracce di una gravidanza scomoda povera Agata è povero quel bambino mai nato perché se fosse andata così come la procura ipotizza ad essere uccisa non sarebbe stata solo una ragazza rosario avrebbe ucciso anche il suo stesso figlio in un'altra intercettazione rosario chiede a un suo conoscente se può dire agli inquirenti che il giorno 4 giugno 2012 giorno in cui è scomparsa Agata era insieme a lui fortunatamente questo conoscente gli tiene testa e ha il coraggio di dirgli di no e di andare subito a raccontare tutto alla polizia questa è la dichiarazione che ha rilasciato ai carabinieri ho ricevuto una telefonata sulla mia utenza cellulare da parte del palermo rosario il quale mi chiedeva di incontrarmi perché voleva parlarmi di persona e non per telefono in tale circostanza rosario mi domandò testualmente ti ricordi quando siamo andati a raccogliere le lumache di terra e mi sono fatto male al piede collegando si fatto episodio con il giorno della scomparsa della ragazza a tale affermazione reagì in modo fermo ricordandogli che eravamo stati a scordia nell'anno 2014 e non nell'anno 2012 e di non essere stato presenti quando ebbe a procurarsi la ferita al piede a questo punto rosario sorpreso dalla mia reazione replicava dicendo in caso non puoi dire che ero a raccogliere le lumache quel giorno al che risposi testualmente che sei pazzo io non ci sono stato con te in quella data e poi tu mi hai detto che quando ti ho lasciato a casa sei andato a raccogliere origano per conto tuo c'è anche un'ennesima intercettazione tra rosario e sebastiano e chi è sebastiano? è il tizio che spalleggiato da rosario aveva aggredito l'inviato di chi l'ha visto minacciandolo anche di morte come se non bastasse rosario dice a questo amico comunque la cosa è brutta bastiano perché io con questa ragazza ci scherzavo ci facevo che lei mi faceva ma tu vuoi fare un giro con me? e io gli facevo Agatha ci facciamo un giro se rintracciano queste parole me la mettono nel culo mi è passata la volontà anche di andare al mare mi sono gonfiato la minchia se rintracciano ti vengo a prendere e io gli ho detto no non ho mai avuto niente con questa ragazza già queste parole si buttano pesanti hai capito? però se io li toglievo lo hai capito questi telefoni io li dovevo togliere molto prima ti sto dicendo prima che facevano la perquisizione quindi è chiaro che rosario mente quando dice che con Agatha non aveva niente a che fare e ora sta dicendo che avrebbe dovuto cancellare i messaggi dai telefoni quello che gli sfugge che se vogliono gli inquirenti i messaggi cancellati da un cellulare santo cielo li recuperano passiamo a un'altra intercettazione rosario dice il giudice ti ha mandato questa carta ti ha scarcerato ti ha liberato ti ha scagionato tu sei scagionato abbiamo trovato il cadavere da questo punto l'uomo si immagina di avere una vera e propria conversazione con gli inquirenti lo sai a chi abbiamo arrestato? no non ti fa piacere di sapere a chi abbiamo arrestato per questa ragazza che manca? sì sì a scuto Gianluca a scuto Gianluca abbiamo trovato il corpo della ragazza nella zona di Pacchino abbiamo rinvenuto il cadavere il cadavere non è stato ucciso da te ma da scuto Gianluca sei libero puoi andare dove vuoi rosario in questo caso immagina che sarà salvo e che in galera ci andrà il fratello di Agata Gianluca il 18 maggio 2022 finalmente si viene a sapere che gli indagati per l'omicidio di Agata sono addirittura 4 quindi ci sono altre 3 persone oltre a Rosario sono tra gli indagati per aver aiutato Rosario a costruirsi un alibi e tra questi indagati ci sono due donne e un uomo l'uomo è Sebastiano l'amico di Rosario e anche lui vive ad Acireale ma soprattutto Sebastiano era colui che aveva aggredito e minacciato di morte l'inviato di chi l'ha visto e ovviamente l'inviato torna da lui per fare il suo lavoro gli chiede se conosceva Agata se sa qualcosa di Agata cosa ne pensa della situazione che si è creata Sebastiano risponde penso che sono già fuori fase poi divento monello come hai detto tu che ne pensi? tu che cosa ne pensi? vogliamo fare ridere la gente qua? vuoi far ridere la gente qua? io ti faccio ridere la gente però è chiaro non c'è nulla da ridere una ragazza è scomparsa ormai da dieci anni forse è stata uccisa la terza indagata è Rita l'ex compagna di Rosario con cui ha due figli anche lei avrebbe aiutato a dipistare le indagini infatti sono stati acquisiti gli audio delle telefonate tra Rosario e Rita nonostanti quest'ultima dica che si sentivano ogni tanto solo per i figli questa discussione rende evidente che sta mentendo Rosario al telefono le dice se ti dovessero chiedere oggi domani ma lui che mestiere faceva quando era con lei tu ci devi dire che se ne andava a prendere le lumache di campagna se ne andava a fare origano ma lei lo sa dove lui se ne andava ascolta me lui se ne andava qua a Palagonia gli dici la parte di Catania se me ne andavo lontano andavo a dormire a Siracusa e me ne andavo a dormire ma non dirgli queste minchiate la quarta donna indagata è Sonia l'attuale compagna di Rosario l'uomo si mette con Sonia dopo aver rotto il rapporto con Mariella la mamma di Agata e anche a lei chiede di mentire ai carabinieri ecco l'intercettazione me ne devo andare in mattinata me ne vado verso le 4 e mezza mi alzo verso le 4 e me ne vado siccome devo andare lontano se ti capita che passano i carabinieri non gli dire se ne è andato lontano Sonia risponde va bene Rosario continua perché devo andare lontano capace che parto alle 4 di mattina e posso ritirarmi alle 5 6 di sera non ci dire mai ai carabinieri se ne è andato stamattina se loro vengono di pomeriggio gli dici se ne è andato verso le 11 Sonia di nuovo ribatte va bene Rosario continua vengono alle 2 gli dici se ne è andato verso le 11 e 30 di nuovo Sonia risponde va bene Rosario conclude non ti scordare mai quello che ti sto dicendo ma davanti alle telecamere di chi l'ha visto sostiene di non ricordare proprio questa chiamata che c'è stata tra lei e Rosario ma Rita dice di più lei è stata indagata per il tondino di ferro gli inquirenti sono sicuri che quella sia l'arma del delitto e l'hanno trovata nella macchina di Rosario questo tondino di ferro è quel ferro con cui Rosario sostiene di essersi fatto male nel pomeriggio del 4 giugno 2012 cosa fa Rosario decide di nascondere un pezzo di ferro simile a quello da lui descritto che sporca appositamente col sangue ma il piano viene scoperto dai carabinieri che sequestrano questo tondino nell'ottobre del 2022 inizia il processo contro Rosario Palermo e il dibattimento entra nel vivo lunedì 7 novembre 2022 quando cominciano le audizioni dei testimoni a partire dagli investigatori che si sono occupati del caso dopo la deposizione dei consulenti della procura il prossimo 24 gennaio riprenderà il processo per la morte di Agatha Scuto e io vi terrò aggiornati io ho finito di parlare in questo video spero vivamente che questo video possa essere stato per voi interessante io ho trovato questo caso incredibilmente disturbante mi pare assurdo che una ragazza per di più disabile sparisca così per tanti anni 8 anni sono tantissimi e nessuno prenda questa scomparsa seriamente è una cosa che proprio mi disturba parecchio perché appunto Agatha era una ragazza fragile aveva dei problemi ovviamente e questa non curanza davvero mi rende un sacco un sacco triste cioè davvero è bastato semplicemente rosario che dicesse no no ma io l'ho vista io l'ho vista Agatha ma anche presa parolacce e basta si ritira la denuncia e fine nessuno ci pensa più ma davvero non so io a un certo punto ho anche pensato ma povera sta ragazza povera Agatha tutte le persone scomparse hanno il diritto di essere cercate ok tutte e che questa situazione sia andata avanti per otto anni e che sia riemersa grazie a chi l'ha visto bravissimi bravissimi davvero perché hanno fatto hanno fatto aprire un'indagine creando un'inchiesta per i cavoli loro quindi bravissimi davvero davvero bravi io sono curiosa di come terminerà il processo ma soprattutto vorrei capire dove si trova il corpo di questa povera ragazza perché senza il corpo non ci sono sicurezze ok non c'è la sicurezza che Rosario l'abbia uccisa perché era in stato interessante non si può sapere fino a quando non si trova il corpo e non lo si analizza quindi io spero ovviamente che se Rosario è il colpevole confessi e la dica proprio tutta cioè confessi la verità se Rosario non è il colpevole bisogna fare chiarezza anche se con queste intercettazioni dubito fortemente che Rosario non sia colpevole insomma a me pare abbastanza evidente però non c'è una certezza processuale quindi attendiamo il processo attendiamo l'esito del processo e vediamo che cosa decide la giustizia vediamo che cosa cosa ne esce fuori ecco io quindi vi chiedo cosa ne pensate di questo caso quali sono i vostri pensieri le vostre opinioni come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti perché io sono sempre molto curiosa e vi leggo sempre tutti e trovo che molti di voi abbiano davvero una sensibilità incredibile non può che farmi piacere grazie per far parte di questa community davvero detto questo io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti mi raccomando mi raccomando Grazie.